per aiutare i bambini cardiopatici, per poter permettergli di fare le operazioni al cuore. È in vendita in tutti i negozi d'Italia e in digitale in tutto il mondo. Volevo ringraziare la produzione, Ines Dias che ha prodotto questo progetto, ringraziare voi che oggi siete venuti, intervenuti, che ci date voce e spazio. E che dire, viva la musica! Grazie Luca. Hai altre, oltre a questo, altre novità da proporci? Sì, c'è il CD di Francesca Muggia che da 9 ottobre è in vendita in tutti i negozi d'Italia, in digitale in tutto il mondo, sempre prodotto da MD Produzioni di Ines Dias, dove io sono autore, compositore, arrangiatore di tutto il disco e in più sono anche ospite in un brano, il brano di lancio, che è su alcune radio nazionali come Latte Miele, Radio Cuore, Reporter e tanti altri. Grazie Luca, grazie. Grazie a voi, ciao, a presto. Che abbiamo fatto noi, qui adesso, perché vogliamo ancora crederci, ora stringimi di più, per non lasciarci mai, per non lasciarci. E abbiamo qui Ines Dias, che è la produttrice di Francesca Muggia, della giovanissima Francesca, e quindi è produttrice, non è facile al giorno d'oggi con la crisi musicale che c'è, poca produzione, poca vendita di dischi, quindi io mi complimento con te, sarai l'ispiratrice di ogni giovane cantante, cioè quando ti vedrà, perché veramente ce ne sono poche e come lei, come si è appunto sentito dal tuo show. E cosa ti ha ispirato la Francesca? Allora, innanzitutto questa sua originalità nella voce, che non è facile da trovare oggigiorno, perché ci sono tantissimi bravi cantanti, poi non tutti però comunicano, quindi qualcosa di diverso. A volte è difficile trovare un'originalità, però io ascolto tantissimo materiale, cioè veramente in Italia, io posso dire che pullula di grandi talenti, mancano solamente le forze veramente per portarli al pubblico. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di fare del nostro meglio, per cercare di farli crescere, quindi di portarli con dischi di qualità e con buona musica, che sia orecchiabile, che piaccia al pubblico, quindi che arrivi insomma alla gente. Grazie Ines per il tuo lavoro e per la tua passione. Grazie, grazie a tutti voi. Qui abbiamo ospite d'onore Tony Esposito, che ci ha aiutato un po' nel talk show, ha parlato un po' anche della cantante Francesca e vorrei sapere anche da lui qualcosa di nuovo e se lo rivedremo ancora a Sanremo. Allora, ci sono cose che adesso forse non devo dire per scaramanzia, però voglio parlare invece dell'iniziativa Milano-Sanremo, che è fondamentale, perché diventa un work in progress anche per tantissimi giovani e tantissimi nuove eleve e tantissimi nuovi artisti. Così come oggi abbiamo presentato Francesca, questa grande cantante, giovanissima, con tutta una vita davanti, musicale. Dicevo prima a un mio amico musicista che ho incontrato qui a Milano che è un po' il dovere di noi che abbiamo fatto tanta strada, abbiamo suonato su tanti palchi e qualche bel successo l'abbiamo anche fatto discografico, che è un po' il nostro dovere quello di comunicare l'entusiasmo ai giovani talenti, anche perché è un periodo molto difficile. Io vedo questa ragazza di 16 anni che è un po' spaventata, che tutti dicono che oggi i dischi non si vendono, c'è una grande crisi, per cui lì si sente un po' demotivata. È vero che una parte del mercato si è chiusa, c'è una crisi discografica in tutto il mondo, non solo in italiano. È anche vero che dall'altra parte se ne è aperta un'altra porta, quella multimediale, dove su YouTube, dove comunque un video oggi può avere milioni e milioni di utenti e chiaramente interessare di nuovo le case discografiche. Faccio l'esempio, l'Anna del Rei, chi non la conoscesse, uno che ha venduto 5-6 milioni di copie americane, nessuno la voleva, ha messo un video su YouTube, adesso è arrivata qualcosa come 60-70 milioni di visite. È un grande mezzo, sì. Grazie Tony.